ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi vedremo cos'è la capitale del clan buona visione a tutti allora intanto possiamo trovarla spostandoci con il nostro villaggio qui in basso oltre che la barca che praticamente ci porta al villaggio della sala del costruttore abbiamo anche una specie di dirigibile e questa specie di isola che fluttua intanto entriamo nel dirigibile poi andremo a vedere cos'è quell'isolotto che fluttua clicchiamo dove c'è scritto il numeretto 5 e tra poco scopriamo anche perché c'è scritto 5 come prima schermata ci appare la nostra capitale del clan facciamo un discorso generale su cos'è la capitale del clan allora la capitale del clan è formata da più distretti che sono tutte queste casette secondarie diciamo queste parco degli scheletri, officina del costruttore eccetera poi abbiamo invece il picco della capitale tutte queste casette comprese quindi il picco della capitale rappresenta la capitale del clan ora come funziona? la capitale del clan è come se fosse più o meno un terzo villaggio in cui però tutto il clan potrà partecipare a tirarlo su quindi ci saranno dei miglioramenti da fare ma tutto il clan potrà versare in quello stesso edificio ad esempio versando l'oro della capitale che sarebbe questa specie di doblone giallo e viola che troviamo qui in alto sulla destra come si ottiene questo oro della capitale? si ottiene attaccando gli altri clan quindi attaccando altre capitali che tra poco andiamo a vedere oltre questo lo possiamo anche ottenere dalla fucina che lo vedremo però più tardi quando torniamo di nuovo nel nostro villaggio principale come funzionano questi assalti? allora una volta a settimana precisamente il fine settimana quindi ogni fine settimana inizieranno gli assalti alla capitale avremo a disposizione 5 assalti 5 attacchi a settimana più se riusciamo a tristare la prima volta che appunto tristeremo avremo un bonus quindi invece che 5 6 attacchi andiamo a vedere come funzionano prima però vi faccio vedere un'altra cosa e vi consiglio di farlo tutti premete sulla i di informazioni in alto sulla destra andate su attacchi e guardate c'è scritto prova se voi cliccate prova vi farà fare appunto un attacco di prova in cui se riuscite a fare 3 stelle vi darà 2610 oro della capitale che potrete già volendo versare sulla vostra capitale del clan ok abbiamo fatto la prova non ve la faccio vedere perché tanto non è importante era soltanto per farvi sapere che già potete guadagnare qualcosa anche se non avrete ancora attaccato negli assalti della capitale direi a questo punto di passare proprio negli assalti della capitale allora noi abbiamo vedete i nostri distretti che dovremo andare ad attaccare e il picco della capitale avversaria sul picco però c'è un lucchetto questo vuol dire che finché noi avremo buttato giù tutti i distretti quindi tutti questi municipi secondari il picco della capitale rimarrà chiuso prima però dobbiamo andare a creare il nostro esercito ora io ho creato questo voi non saprei vedete voi dipende anche dalla disponibilità del clan perché ad esempio noi abbiamo sbloccato tutte le truppe e le abbiamo maxate per il livello della nostra capitale ovvero il livello 8 quindi vedete voi in base al vostro clan cosa avete sbloccato perché qualsiasi truppa che sbloccherete sarà disponibile per tutti direi di attaccare prendiamoci uno ancora che non è stato attaccato e buttiamoci io farò soltanto un attacco per farvi vedere e per farvi vedere poi come andare a contribuire con la capitale e per farvi vedere e per farvi vedere vedete man mano che voi andate a distruggere tutte le varie strutture si liberano altri posti bianchi questo vorrà dire che appunto in quei posti bianchi voi potrete andare a buttare diciamo una truppa e quindi Ok Ci rifacciamo di nuovo questo villaggio Così vi faccio vedere poi Quando ci darà il bonus Così Così Ok Ce l'abbiamo fatta Guardate Bonus d'attacco guadagnato E ci ha dato il simboletto della spadina gialla Se noi torniamo al nostro villaggio Abbiamo ancora 4 attacchi con la spadina gialla Quindi abbiamo praticamente ricevuto il bonus E abbiamo un attacco in più Questo però vale soltanto Come vi ho detto prima La prima volta che andate a fare 3 stelle La connessione di tanto ci abbandona Ok adesso visto che siamo usciti Ci ha fatto uscire Vi volevo far vedere l'altro modo Per andare a Diciamo Ottenere L'oro della capitale Ovvero Nel villaggio base Vi avevo detto Già all'inizio del video Che abbiamo Due Diciamo componenti All'interno del villaggio Ovvero Il dirigibile dove siamo appena stati E dove si trova praticamente La capitale del clan E poi abbiamo la fucina Ora per il momento Non possiamo fare niente Però vedete Se noi ad esempio arriviamo al TH9 Possiamo andare a creare Appunto L'oro della capitale In cambio di Oro O Elisir Del villaggio principale Oppure Oro Elisir Del villaggio Notturno Quindi Quello della base Del costruttore In cambio anche Di un costruttore Che gli dobbiamo lasciare A disposizione E Dobbiamo attendere Tre giorni Per produrre Questo Oro della capitale Altrimenti abbiamo Ogni 24 ore Se vedete Sulla sinistra Possiamo ottenere Possiamo riscuotere Anzi 150 punti Di oro Della capitale Ora Dove andare a versare Questi punti Dobbiamo tornare indietro Quindi nella Schermata principale Della capitale Del vostro clan E Se cliccate Sul costruttore Sulla i del costruttore Vedete che sono Registrati Diciamo Tutti i miglioramenti Che In quel momento Il clan Sta portando su Ora però C'è una piccola differenza Ad esempio Se vedete Nel municipio Della capitale C'è una bandierina Di fianco Sulla destra Quella è la priorità Quindi I capi di quel clan Hanno Praticamente Aggiunto La priorità Al municipio Al municipio Della capitale In questo caso Andiamo a Versare Il punteggio Lo sappiamo Sì Grazie Ed eccolo qui Nel frattempo Saliamo anche Di livello Perché Tutto il punteggio Che andremo a versare Verrà registrato Guardate Verrà registrato Nel nostro profilo E tutti quanti Vedranno Poi Anche un'altra cosa Carina Possiamo andare A Creare La nostra casetta Vedete Queste sono Tutte le casette Che Ogni giocatore All'interno Del clan Hanno Personalizzato Andiamo a vedere Come personalizzare La nostra Poi vi faccio vedere Anche come trovare I componenti Per personalizzare Sbloccheremo Alcuni componenti Passando Di livello Altri invece Li dovremmo comprare Poi vi faccio vedere Come Allora Come la facciamo Questa casetta Non saprei Facciamola Con il tetto Così Poi Il muro Per forza Questo Anche il terreno Qui invece Cosa ci possiamo Mettere Così come Ci sta Ma io direi Anche lasciarla Così non è male Ok Abbiamo Personalizzato La nostra Casetta Eccola qui C'è scritto Proprio il vostro Nome sulla casetta Quindi potete Ritrovarla subito Ok Possiamo uscire Da qui E andiamo a Vedere Invece Come ottenere Queste Questi Componenti Diciamo Ovvero Con questo TH Noi abbiamo Sbloccato Anche Il mercante Che sarebbe Questa bancarella Che troviamo Qui Con il mercante Noi possiamo Acquistare Tutti questi Oggetti Artefatti E vedete Ci sono anche Appunto I componenti Che vi dicevo Poco fa Per andare A creare A dare Ad abbellire La vostra Casetta Il fatto Della casetta È soltanto Per estetica Non comporta Niente All'interno Dell'attacco Quando qualcun Altro Attacca La vostra Capitale Tutti Questi Oggetti Li potrete Andare Ad acquistare Soltanto Con le Medaglie In cambio Di medaglie Della capitale Che sarebbero Queste Qui Le medaglie Le otterrete Soltanto Il lunedì Ma quando Finiranno Gli assalti Alla capitale E la quantità Delle medaglie Che andrete A ricevere Dipende Dalla lega In cui si trova Il vostro Clan Da quanti Distretti Verranno Buttati giù In totale Vanno anche In base Alla difesa Del vostro Clan Quindi da come Si è difeso Dagli attacchi Avversari Quindi in totale Quanti Attacchi Diciamo Ha ricevuto Il vostro Clan La quantità Di medaglie Ricevuta Dipende Anche Dalla Lega Del clan Che Con cui Andrate A scontrarvi Comunque Troverete Tutto Quanto Qui Nelle info Se Magari Vi dimenticate Qualcosa Nel frattempo Avrete tutto Quanto Qui A disposizione In qualsiasi Momento Ok ragazzi Per questo video Possiamo Salutarci qui Ci rivediamo Al prossimo Se avete Dubbi Mi raccomando Chiedete in Ciao Cercherò di Aiutare Se Qualcuno Ha Dei dubbi Ciao a tutti Ciao a tutti